Ciao ragazzi e ben ritrovati in un nuovo Parmiamone. Quest'oggi andremo a parlare della vittoria per 3-0 da parte del Parma contro la Provercelli. Una partita sicuramente molto positiva dal nostro punto di vista. Un 3-0 secco, un 3-0 che ci porta addirittura al primato in classifica, al ritorno al primato in classifica, tra l'altro stavolta grazie alla differenza reti, anche sopra il Bari. Quindi questo mi rende sicuramente al settimo cielo, visti i risultati negativi delle altre. Ma ovviamente come abbiamo visto la Serie B è una continua altalena, quindi potremmo ritrovarci primi, la prossima volta ritrovarci di nuovo quarti o quinti. Il discorso di questa partita però voglio farlo partire dalle dichiarazioni finali da parte del presidente del Provercelli, che ha dichiarato che la Provercelli avrebbe giocato la partita non contro il Parma, appunto la nuova gestione sia dei presidenti, diciamo, parmigiani che del presidente cinese. Quindi una nuova gestione diversa dal solito, un nuovo inizio, ma contro il Parma di Tanzi e di Grardi, per via del fatto che, a secondo il suo punto di vista, ovviamente ci siano stati degli errori arbitrali molto grossolani. Adesso io sicuramente vi starò facendo vedere il fallo da ultimo uomo che ha sanzionato anche l'espulsione da parte del difensore della Provercelli e che quindi ha cambiato la partita. Ora venitemi a dire che questo non sia fallo da ultimo uomo. Io sono aperto a qualsiasi cosa, sicuramente non vado lì a guardare gli errori arbitrali più nel dettaglio, alla fine sono professionisti anche gli arbitri, possono sbagliare anche loro, ma non mi venite a dire che questo sia un errore arbitrale, almeno secondo il mio punto di vista, poi magari mi sbaglierò, ma credo che gli errori arbitrali siano abbastanza oggettivi e non soggettivi. Ora, il discorso qual è? Che siamo un pochino tutti un pochino stanchi, scusate per la ripetizione, del discorso il Parma ruba, il Parma lo vogliono in Serie A, il Parma vogliono a tutti i costi che esca da... No, ragazzi, se il Parma avessero voluto a tutti i costi, io ho già ripetuto questa cosa in un altro video che sicuramente potrete vedere in descrizione oppure qui in alto, io ho già ripetuto che il Parma non vogliono assolutamente che salga su e quindi stanno cercando in tutti i modi di farlo salire. Sicuramente gli farebbe comodo avere un Parma, ma come gli farebbe comodo avere un Bari, come gli farebbe comodo avere un Palermo, come gli farebbe comodo avere un Venezia, cioè squadre con storia, squadre con un grosso bacino d'utenza, sicuramente gli farebbe più comodo che purtroppo una Provercelli. Questo è normale, però la Provercelli, ragazzi, è una squadra di grandissima storia, quindi mi farebbe piacere se salisse anche lei in seriali. Ma non mi voglio dilungare troppo riguardo la questione del presidente del Pordenone, il Parma credo che abbia richiesto scuse, non ci siano state, io vorrei sapere più o meno voi cosa ne pensate, io ho già parlato tutto di come la penso sulla questione il Parma ruba, il Parma di qua, il Parma di là, nel video che avrete trovato sicuramente qui in alto a destra, ma non voglio dilungarmi, per me il fallo c'era, per cui sono tutte chiacchiere e anzi sono sicuramente, come posso dire, un bruciore che può avere il presidente del fatto che il Parma di Tanzi e di Ghirardi ci avrà giocato magari contro durante il giovedì pomeriggio durante l'allenamento e mai in campionato. Quello che sta incontrando adesso è tutt'altro causa, è tutt'altro Parma, ecco. Io non vado fiero sicuramente di ciò che è successo con quelle presidenze, sto andando fiero di quella che succede in questa presidenza, vado fiero di questa presidenza, ecco. Parlando della partita, sono molto contento ancora che Roberto Insigne sia veramente fortissimo, cioè veramente non so che aggettivi utilizzare, per ciò che sta facendo Roberto Insigne. Ha completamente modificato l'andamento della fase offensiva del Parma, che resta comunque molto spoglia, visto che in attacco siamo molto carenti, purtroppo io proverei un Nocciolini piuttosto che un Barai, ormai a questo punto almeno lui è una prima punta vera, ma comunque posso lamentarmi su un 3-0, questo assolutamente no. Roberto Insigne ancora sugli scudi, ha insegnato anche Scavone, centrocampista, che all'inizio dell'anno non stava giocando tantissimo, adesso sono contento che tramite il turnover stia trovando molto molto più spazio. E niente, ragazzi, una vittoria netta, non possiamo dire nulla, siamo adesso, come detto prima, primi in classifica a pari merito col Bari, sono molto contento, però diciamo che è una serie B strana, è una serie B che ogni punto è una manna dal cielo, veramente, è una manna dal cielo. E io non vedo l'ora di sapere a gennaio che cosa succederà, chi interverrà sul mercato in maniera più netta e decisa. La prossima partita dovremmo giocare contro, vado a vedere subito, dobbiamo giocare contro la Ternana nella prossima partita, adaltro tantissime partite a dicembre, sono almeno 1, 2, 3, 4, 4 partite a dicembre ancora, per cui, vabbè, siamo appena all'inizio di dicembre, ma ci può anche stare, dato beccheremo poi il Cesena e il Bari, scontro diretto praticamente potrebbe essere lo scontro per la vittoria dei più forti dell'inverno, diciamo, non mi vengono le parole, comunque potrebbe essere una partita decisiva, poi beccheremo lo Spezia il 28 di dicembre. Sono 4 partite sicuramente toste, la Ternana è una squadra che è salita, se non mi sbaglio, da poco in Serie B, se non vado errato, per cui magari non è esperto a quanto può essere esperto un Cesena o un Bari, però sono proprio queste le partite che dobbiamo vincere, oltre ovviamente agli scontri diretti, ed è qui la paura che mi sorge, ma lì dopo ne parleremo nei prossimi video del Parmiamone. Fatemi sapere voi, in un commento qui sotto, cosa ne pensate, io in questo episodio ho voluto semplicemente spiegarvi la situazione, diciamo, di ciò che ha detto il presidente della Provercelli, in maniera pacatissima, come sempre, ecco, non vado mai a litigare, però ovviamente è normale che io vada a parlare di questo. Fatemi sapere in un commento qui sotto, cosa ne pensate ragazzi, grazie mille di aver visto questo video, un saluto, ciao da Papirus, e forza Parma ragazzi, siamo primi in classifica, restiamoci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti